Il pianista Francesco Attesti, nato a Cortona nel 1975, è un talento aretino che porta in giro con sé nel mondo l'arte di guido. Dall'età di sei anni suona il pianoforte e questa passione lo ha portato a viaggiare e ricevere numerosi premi e gratificazioni. Recentemente ha ricevuto il riconoscimento di artista che cambia la vita, dal sindaco del Texas, un titolo che viene attribuito ogni anno dalla città di Edinburgh ad un personaggio che ha lasciato un segno alla comunità in cui si è esibito. Cosa ti lega di più alla tua terra Natia? Sicuramente la bellezza e l'arte, cosa che in molti altri paesi, nonostante ci siano bellissime altre nazioni nel mondo, non hanno quasi tanti tesori artistici come ha la nostra terra. Poi la Toscana è l'elemento di eccellenza dell'Italia, in un certo senso. Ogni qualvolta vado fuori, una delle prime domande che mi vengono rivolte è di raccontare della Toscana e delle sue bellezze artistiche, culturali, ma anche culinarie, insomma, vinicole. Come è nata la tua propensione verso la musica? Diciamo che non vengo da una famiglia di musicisti, innanzitutto, anche se sembra strano, ma è una famiglia che ha sempre cercato di veicolare la mia attenzione verso la musica classica. Mio zio era un organista amatoriale, suonava anche la tromba, e io ho cominciato con il pianoforte a sei anni, e da lì è stato, diciamo, una buona prima vista e ha continuato così fino ad oggi, insomma. Mio zio era un organista amatoriale, suonava anche la tromba,